Ma sei stati più a più di un'ora, e non la facevamo a scastralle, la po' bella è che lui era l'ultimo, no, sì, non c'era nessuno dietro a 40 anni, niente. Questa la conosce, questa è una volta. Dai Walter, questa la fai, senza blocco, dai, io l'ho fatta sempre. Grazie a tutti.